ciao a tutti ragazzi oggi siamo precisamente in questo punto sulla mappa per presentarvi un glitch per essere fuori dal radar ed invisibile per prima cosa parcheggiate la vostra auto vicino al segno di uno in questa gara in modo che voi potete entrare dentro velocemente dopo aver sparato ed aver fatto aumentare il vostro livello di sospetto una volta che il vostro livello di sospetto monterà sarà semplicissimo basta che entrerete nell'auto e scapperete fin quando non avrete seminato sia la gang che la polizia una volta che li avrete seminati voi sarete fuori dal radar ed invisibile quindi Ancora non li seminati. Quando il livello di sospetti non ci sarà più, voi sarete in pratica nella storia, con il vostro personaggio online, come vedete, la mappa è quella, in basso a sinistra, in strada e non ci sono missioni, ma come se saremo offline, se siete in una sessione pubblica con altri giocatori, potrete ucciderli e loro non vi vedranno. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi. Ciao a tutti.